Sei sempre al solito egoista, se te che non fai mai niente, e neanch'io ti sopporto più. Devo fare tutto io in casa, devo far da mangiare, devo andare a lavorare, non posso mai neanche fare tutte le cose che mi piacciono, non posso andare in palestra e non posso andare. L'unica cosa che fai è dormire, la tua priorità è dormire, non è niente altro. Sei fortunata che non me ne trovo un'altra. Ecco, magari qua l'ho l'opportunità che devi prendere, perché sono stufa. Allora vai, perché io sono stufa e me ne voglio andare in casa. E cosa fai da sola qua e dopo in casa, in questa villa enormi che ti perdi? Ah! Oh! Oh, 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 oh. You fall through the trees, and you pray with your name, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti